Il progetto Sol2i2 è un progetto cofinanziato europeo, un progetto di ricerca, è cofinanziato dal FCHJU che sta per Fuel Cell and Joint Undertaking e lo scopo del progetto è quello di produrre idrogeno verde. La produzione di idrogeno è un processo che avviene ad altissime temperature e quindi con delle emissioni. In questo caso l'idea è quella di produrre idrogeno tramite celle solari, quindi tramite l'energia solare in assenza di conseguenza di emissioni. Il progetto vede dei partner di eccezione, abbiamo ad esempio l'Università Alto, il professor Gasic è il coordinatore scientifico del progetto, abbiamo il centro aerospaziale tedesco e abbiamo anche un partner italiano, quale l'Enea, oltre ad essere poi Enginesoft il coordinatore del progetto. Il progetto del progetto è di produrre idrogeno verde usando le fondi rinnovabili e l'acqua e come un prodotto può essere usato come l'aceto sulfuro che può essere riciclato, quindi essenzialmente produrre idrogeno e oxigeno usando l'acqua e le fondi rinnovabili. Questo è l'obiettivo del progetto del progetto del progetto del progetto del progetto di produrre idrogeno più e più di produrre idrogeno produrre idrogeno, che è anche costo effettivo e può essere usato in le fondi rinnovabili, in le auto, in ogni energia produzione o transporte. E questo è il progetto di essere costo effettivo, è che utilizza anche le fondi rinnovabili come il solare o il freddo. Enea mette in questo progetto a disposizione la sua consolidata esperienza nell'ambito del solare a concentrazione e del ciclo termochimico per la produzione di idrogeno. Nello specifico le attività svolte all'interno del progetto riguardano quindi la captazione e immagazzinamento del calore solare alla temperatura 550 gradi con la tecnologia consolidata Enea e attività di flow sheeting per tutto il processo in generale e il balance of plant dell'impianto. Ovviamente questa attività prevede diverse interazioni con gli altri partner, in particolar modo con i partner di Herbicol che sviluppano i supporti ceramici per i catalizzatori, su cui poi noi depositiamo le specie attive e con il DLR, l'Aerospaziale tedesca che si occupa invece del solare a concentrazione e alta temperatura con la tecnologia torre solare di cui loro sono molto esperti. Quindi sono previste grandi interazioni con tutti i partner del progetto ovviamente. La torre solare del DLR si trova in prossimità di Colonia, in Germania, presso Jurich, mentre gli impianti Solar Traff di Enea si trovano appunto al centro di cerche Enea Casaccia, nelle immediate vicinanze di Roma. Grazie a tutti.